Il giovane è rimasto gravemente ferito nello scontro in cui aveva perso la vita un altro ragazzo Enrico Ferrato, 19 anni, sempre di Sanfront. I due ragazzi frequentavano lo stesso liceo, il Bodoni di Saluzzo. Vittorio è deceduto intorno alla mezzogiorno di ieri, martedì 3 giugno, al Santa Croce di Cuneo dove era stato ricoverato, ma la notizia è stata diffusa solamente nel tardo pomeriggio quando è stata dichiarata la morte legale. Nelle ore la pagina Facebook si è riempita di saluti e ricordi dei tanti amici e conoscenti che lo circondavano. I genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi. Il tenore di vita degli amministratori di due società operanti nel settore dei servizi ha insospettito le fiamme gialle che hanno dato corso ad una approfondita indagine a seguito della quale sono emersi indizi di rilevanti illeciti fiscali. L'analisi della documentazione ha permesso di constatare che le due imprese hanno contabilizzato tra il 2005 e il 2013. Costi inerenti a fatture per operazioni inesistenti i cui emittenti sono stati denunciati alla competente autorità giudiziaria, ovvero con costi delle relative prestazioni gonfiati artificialmente. Il Tribunale di Torino ha perciò emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, eseguito nei giorni scorsi dai militari su 17 unità immobiliari del valore complessivo di oltre 1.150.000 euro, alcuni dei quali siti in note località turistiche della provincia di Cuneo e di Savona. I carabinieri della compagnia di Saluzzo hanno operato fino alle prime luci dell'alba per garantire il regolare svolgimento della manifestazione effetto notte 2014. La notte bianca saluzzese svolgarsi tra la sera del 31 maggio e la notte del 1 giugno scorsi. Oltre ai militari, a presidio dell'ordine pubblico, nelle aree centrali interessate dai festeggiamenti e più frequentate, sono stati predisposti i pattugliamenti a cintura della manifestazione per vigilare le aree periferiche del centro abitato e prevenire la consumazione di reati predatori in abitazioni su autovetture in sosta. Scopo dei servizi e dei controlli eseguiti è stato soprattutto quella di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione attraverso un adeguato controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione degli abusi, in particolare quello smodato di sostanze alcoliche stupefacenti alla guida, causa primaria purtroppo di incidenti stradali, al prevenire comportamenti molesti o vandalici nell'area del centro maggiormente frequentate dai giovani. Dopo due settimane di indagini, gli agenti della Polizia Municipale di Bra sono riusciti ad identificare ed eferire in stato di libertà la procura presso il Tribunale dei Minorenni del Piemonte. Due minori autori di una rapina a danno di un'anziana braidese. La donna, una settantenne residente in città, è stata raggiunta nei pressi della chiesa di Santa Chiara nella centralissima via Barbacana, da due ragazzini che le hanno ferrato la borsa facendola cadere a terra. Grazie però alle telecamere comunali di videosorveglianza, gli agenti della Polizia Municipale della città della Zizzola hanno analizzato i tratti somatici dei due rapinatori, provvedendo nei giorni successivi a monitorare i luoghi di incontro dei più giovani e gli ingressi delle scuole cittadine. Un agente di pattuglia ha così notato i due e ha provveduto alla loro identificazione. Convocati assieme ai genitori presso il comando di via Moffa di Lisio è stato contestato ai ragazzini l'illecito informandoli del deferimento in stato di libertà alla procura per il reato di concorso in rapina impropria. Il sindaco Sibile, dopo la conferma alla guida dell'amministrazione civica, ha nominato i componenti della nuova giunta comunale. Vice sindaco sarà l'assessore uscente Giovanni Fogliato, al quale la prima cittadina ha conferito le deleghe in materia di servizi sociali, istruzione e servizi scolastici, politiche della famiglia, bilancio e finanze, mense, formazioni professionali e attività produttive. Confermati nell'esecutivo comunale è anche Massimo Borrelli che si occuperà di attività ed impianti sportivi, commercio e mercati, turismo e promozione del territorio, progetto Expo 2015. E Luciano Messa, delegato ai lavori pubblici, servizi a rete, edilizia scolastica, viabilità agricoltura. Sara Cravero è il nuovo assessore all'ambiente, politiche energetiche, gestione dei rifiuti e igiene urbana e innovazione. Mentre Fabio Bailo si occuperà di cultura, polizia municipale, anagrafe e stato civile, promozione del patrimonio linguistico e delle tradizioni piemontesi, rapporti con le associazioni combattentistiche ed arma, politiche del lavoro. Il sindaco Sibille ha ritenuto di riservare a se stessa le competenze in materia di pianificazione strategica, urbanistica ed edilizia privata, politiche della sicurezza e della partecipazione, affari generali, istituzionali e legali, igiene, sanità e rapporti con l'ASL, patrimonio ed economato, pari opportunità, personale, trasporti pubblici, politiche giovanili e protezione civile. I dati che emergono dall'indagine congiunturale sui settori del commercio al dettaglio in sede fisse della ristorazione relativa al primo trimestre 2014 realizzata da Union Camera e Piemonte. Confermano il perdurare di evidenti difficoltà per i settori analizzati. I dati del primo trimestre dell'anno confermano come le imprese del commercio al dettaglio della ristorazione risentano ancora degli impatti negativi della crisi sulla domanda interna, ha dichiarato Ferruccio Dardanello, presidente di Union Camera e Piemonte. Il panorama provinciale è estremamente variegato, Biele e Asti sono, così come nei mesi conclusivi del 2013, i territori che scontano le diminuzioni più intense. Il volume d'affari risulta in flessione anche nelle province di Verceglia e Alessandria e, sebbene in misura minore, nel Verbagno Cusio-Ossole a Torino. Le uniche realtà in cui si registra un lieve aumento sono Cuneo e Novara.